E che cosa lasciamo ai giovani di oggi? Sono chevoli risponderti, perché non sappiamo a dove vanno a parare. Noi, da un'altra generazione, non la tua, lasciamo un terreno che non è fertilissimo più, si è sgretolato, si è sconcimato, non è più neanche, da un punto di vista idrico, bagnato bene. Quindi terreno, e non può crescere roba buona su questo terreno. Quindi non lasciamo un bel ricordo dei guai che abbiamo combinato noi. Ci auguriamo e ci auspichiamo che quelli della vostra generazione e i vostri figli sanino questa cosa. Certo, c'è da lavorare molto. Intanto bisogna essere meno banali, meno stupidi, meno amanti, per esempio, perché non amare i prodotti nostri, anche dal punto di vista cramoro, è sempre questa esterofilia stupida nostra. Perché l'Usa getta? Io non è che vado spesso all'estero, però quel poco che vado vedo in Francia fai ancora i concerti a Snavour, che ha quasi 90 anni, becò. In Italia, dopo un po' che fai il cantante di grido, semmai hai faticato una vita per fare un bel disco, dopo un po' acquist, metto l'Hundusklaeksplats. E chi è? E' uno che vede la Germania, ma canta bene il re. Anche qua c'erano quelli che cantano bene. Quindi, come vedi, il terreno non è fettile. Però noi siamo forti. Simma dal sud e sono Cezionale. E adesso si valla, off.